IL BAD, BRO, IL BAD, IL BAD, IL BAD, IL BAD, IL BAD, IL BAD, IL BAD E nada, passiamo alla classe dopo che è Mage Vediamo Mage, allora 8 mana Battlecry, resummona tutti gli Skeletons Quelli che non possono essere resummonati per spazio su board esplodono Gli Skeletons sono dei 2-2 da 2 mana che quando muoiono fanno 2 danni a un random enemy minion, giusto? All'eroe nemico Random enemy, random enemy, random enemy Vabbè sì 8 mana 6-8, resummona tutti gli Skeletons giocati E ok Adesso questa qua sarebbe da vedere con le altre carte che workano con gli Skeletons direi Cioè possiamo fare una review Magari dopo alla fine, oppure adesso, non so Vabbè, vedele tutte, vedele tutte Quindi c'è questa 8 mana 6-8 che work con gli Skeletons Poi dopo parliamo direi in una volta unica Di tutte le carte che riguardano gli Skeletons Durabilità, free zone minion e summona un 2-2 Skeletons Poi Ce ne sono altre Sì 4 mana Summona 2-2 Skeletons e guadagni 4 armor E queste qua sono le carte che workano con gli Skeletons Lo Skeletons è una carta giocabile Sì, lo Skeletons è un 2 mana 2-2 Non penso giocare mai di meno No, 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 ovviamente Ok, sì, sì, ok Allora, secondo me Secondo me è la meccanica che mancava a 40 carte Pink Mago Cioè, fitta esattamente ciò di cui aveva bisogno Ovvero Una carta di controllo più board control Senza dover usare per forza la 3-5 o altre robe del genere E secondo me ci starà molto bene in quel mazzo Sì, diciamo che anche ieri al theorycrafting L'ho mezza vista giocata E ci sarà molto bene perché Allora, alla fine se guardiamo le carte stand alone Il santuario lì lo giochi in tutti i mage, credo Cioè, è fortissimo quel robo Freeza un pezzo Cioè, freeza tre volte un pezzo e ti dà un 2-2 Sì, sì, sì Molto forte L'unica spell un po' sus Sì, l'unica un po' sus E forse Deathborn Che Cioè, vista così non è molto forte Secondo me dipenderà un sacco dal meta L'unico Cioè, l'unico modo in cui Cioè, puoi renderla forte Quasi in ogni matchup È che tu Di base di riempire a board Di sti scheletrini Fai Deathborn Attivi gli scheletri E rifai gli scheletri, capito Sì E E poi niente Cioè, che il 2-Zad È Ovviamente Cioè, è un finish In realtà E poi anche giocarlo Cioè, anche se tipo hai fatto Che ne so, 4 5 scheletri 6 scheletri Così Cioè, è forte È un turno 8 forte Perché comunque Refill i board Quei robbi esplodono Fanno altri danni Quindi, secondo me Ripeto Sarà interessante Ping mage Con sti scheletri Sì, io concordo 40 carti ping mage Con Anche secondo me C'ha questo L'8 che spara 10 danni E il Conte è morto L'alzi Perché sarà danni a pressione Poi alcuni Alcuni facevano Fantacombo Scusate Ti interrompo Che Cioè, non è una Fantacombo In realtà Tanto Bran Comunque lo giochi In quel mazzo Nel momento che Metti anche Celtas E Fare una combo Tipo con Con Keltuzad O Mordresh È ovviamente Insana Come cosa E giocando 40 carte Puoi permetterti Di giocare Una carta Tra virgolette Morta Certo Sì 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 Diciamo che Che la spela 6 e 4 Sono fighe solamente Secondo me Perché sono frusta Perciò Quando l'hero card Tu le rigiochi Spela 6 Secondo me È un playable Fare due danni Con sei mani È troppo Cioè Useless Non capisco Perché non Volevano un po' Forzare Beh Perciò Bud Secondo me Quella tre mana È figa Non so se la giocare Ovunque Ci può stare È figa E quella quattro mana Mi sembra comunque Lentina Non so Non è che mi faccia impazzire Cioè meglio Sembra Ok come carta Quasi Perciò Boh Ovvero Sono un po' scettico Che Possa essere meta Ok L'unico motivo Per cui le giochi Sono Che il tuzzad E Pignas Il sire Perciò Non so E lì Cioè lì Tocca vedere Che magari sono così forti Da doverle giocare Oppure no Tecnicamente Pink Major Diciamo che È pieno di spazio Perciò Specialmente Se 40 carte Magari Alla fine il core Cioè se 40 carte Pink Major Era uscito Qualcuno lo giocava Ma si giocavano Delle carte davvero inguardabili Secondo me Deathborn Però È vero Ma Allo stesso tempo Devi giocare Altre carte inguardabili No Come quella Spera Alla fine Alla fine No no Ma la spalla 6 Secondo me Non la giochi Cioè Sì ma Di bassi Secondo me Non la giochi Eh vabbè Ma Metti Cioè alla fine Metti doppio spell a 4 Doppio santuario Grazie Fabio del Prime Faccio un'ultimo L'alert Anzi Rega Disattiva un attimo Gli alert Per la stream Di stasera Così Se qualcuno sta Fabio 6 E' entrato nella TGA E' questo E se qualcuno Ressab Poi rimando gli alert Domani Grazie comunque Fabio Gentilissimo E Vari ragioni 1 per Non so Cioè giusto per Per value Tra virgolette 2 per Secondo me È Cazzotti Non occhio Uno Puoi pensarci Se il meta Magari Te lo permette Barra Barra Non so Che lo permette Questa significa Cioè Spacchelli Con due punti vita C'è Penso Nel senso Che No Sì Ma Dico Per capire No Perché Difficile Vabbè Di base Secondo me È forte È forte Solo Ed esclusivamente Quando riesci A metterti a terra Degli omini Fai con la roba Ti caccii Gli altri omini Sì Sì Basta Bostanza Ingiudicabile Cioè Dipende Molto Se sei molto Conto Ci giochi Tutto dentro Lo fa 40 carte Se un meta agro Lo giochi Molto più snello Forse pure a 30 Pink Mage Era meglio come era prima Forse Comunque Go next 4 mana 3-5 After a friendly secret Is revealed Cast a different Mage secret E guadagna Più 2 Più 2 A me non piace Sta carta Sinceramente Perché La carta in sé Può essere anche forte Ma È il discorso Che sì C'è nulla Sì Questa qua In a wild Oppi Ma in stanza C'è nulla Per giocarla Esatto Concordo Io La passerei Bastanza fast Questa 3 mana Secret Dopo che Un minio nemico Attaccato il tuo eroe Summoni una coppia Che attacca L'eroe nemico Non lo so Boh Non mi piace Skip 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 2 mana Fino al tuo prossimo turno Il tuo eroe Può prendere solo Un danno alla volta Secondo me Sta carta in qualche modo Sarà buona C'è il tipo di carta Che in qualche modo Torna buona In qualche tipo di Mage Non d'accordo Sì Non so se In questo meta Magari Con carte nuove Sì E' un po' Tatch Pure questa Esatto Cioè Alla fine è una tatch Ci sono mazzi Questo potrebbe essere Un mega cancer Rollata dal box In certi spot Mamma mia Cioè questa Questa carta Sarà pallosa Beccarsela contro Giusto Ah giusto Perché ma box Ma anche queste carte qui Vado Cioè diciamo che Sì Cioè ci sta Cioè La sei mano L'abbiamo già vista Il terreno L'abbiamo già visto Cioè l'umano 1-3 Batte il cry Discover Una spell Se il tuo opponent Indovina la tua scelta Ne ottengono una copia Umano 1-3 Onesto Onesto La giochi Cioè In 40 carte Magari la giochi In 40 carte La giochi magari Sì È un bubbling book Esatto Del futuro Però non penso Sì Cioè non è che dici Wow La giochi Se hai spazio La giochi Chiaramente non è la carta insana Ma non è neanche È una carta ok 30 sicuro no A 40 manco Secondo me Però Dice 40 Alla fine Alla fine Come dicevano Cioè Sentivo tipo Sentivo che ne parlavano Cioè tipo Non so Requam Sì Con Hunteris E altra gente Dicevano che alla fine Mage ha un sacco di spell good Cioè Alcune OP Alcune good E alla fine Hai un sacco di potenzialità Di main trick Cioè nel senso È difficile che ti esca Una spell buona E due che non fanno nulla Quindi Volendo In big spell mage No forse no Ah oddio Perché no Secondo no Perché dopo Magari Hai delle spell Che Non vuoi Per dopo avere in mano Ti inquinano Eh sì sì Ah dici Per quella che scambia I costi delle spell Eh sì Eh sì sì Giustamente Di mage Ci manca qualcosa Sì Abbiamo la 4 mana 4-4 Alla fine del tuo tour Se controlli un segreto Fa due danni A tutti i nemici Vabbè se Se uscirà un archetipo Con i segreti Sarà molto forte Altrimenti Go next Sì sì Go next Non c'è molto da aggiungere Eh La 4 mana L'abbiamo vista Concludiamo con la 2 mana Fa 3 danni Infusione 3 Eh Aggiunge Un frozen touch To your hand Quindi ti ridà questa carta in mano Con infusione 3 Come vi sembra Ma è bidone Cioè non penso E qui lo dico Sì 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 Superbad Cioè alla fine In In Quest flame C'hai Che è più versatile Perché Giocai questa Questa la giochi In Quest mage Merda Quest mage Non è un spell ok Faccio Unque quindi ok Quest mage Mi dovuto Voto vero Mage Facciamo che Le prime due Gli ho dato 3 mezze Ad Hunter 4 No Le prime due Ho dato 3 Ad Hunter 4 Mage do 3 Anche a mage Non mi Cioè c'è il terreno Che è molto buono Del resto Carte ok Ma nulla di che C'è qualche carta ok Ma nulla di che Secondo me Non so Ah per me 3 Sono un fan Della meccanica Degli scheletri Quindi 3 Le tesattors Mancano A tempo sono sparito Oltre oltre e mezzo Non so Io dovuto Non ho carte Che dico Wow Questa è figa Cioè quella Quella location è figa Ma cioè non è Paragonabile A quella di prima Perciò Dai ma manche i mage Che si giocano ora Su film C'è nulla di figo In mage Però in qualche modo Fa quel che deve fare Samau Sì Beh io Continisco a mangiare Ok Sì sì Adesso la chat Sta votando Cominciamo con Paladin Allora 3 mana 3-3 Detrattol Dà la tua prossima Silverhand Recruit Give the next Silverhand Recruit And you summon Ok 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 Allora Dà la prossima Recluta mano d'argento Che evochi Più 3-3 E questo Detrattol Quindi significa che La prossima recluta Sarà una 4-4 Con Detrattol Dà più 3-3 La prossima Recluta che evochi Non penso che sarà Un archetipo playable Come nel 2015 Con Quotermaster Paladin La Pure Paladin Nostra carta È forte dei 6 Da giochi in Pure Paladin E basta Esatto C'è la fine Questa la butti Cioè se uscirà Pure Paladin 40 carte Paladin La butti Lì sti cazzi Tanto appena farà Aeropower Ti uscirà un 4-4 Appena farà i Cariel Non farà più nulla Un altro 4-4 È buona come cosa Appena ti muori Quello Fa Aeropower Comunque un 4-4 Turno 2 Che ti porti dietro In Pure Paladin Ok Farò Ma ti parliamo Solamente in un Dude Paladin Che non ha le carte Perciò Esatto Quello il discorso Cioè ci vorrebbe Un mazzo ai livelli Del Quotermaster Paladin Del 2015 Ma non Sì che ne sono Master for Battle Queste carte Esatto Sì 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 7 mana 7-7 Battlecry Se il tuo deck Non ha carte neutrali Aggiunge tre Legendary Invitation To your handle Le Legendary Invitation Sono pure Cosa fanno? Sono spell A 3 mana Che ti discover Una carta legendaria Minion Di una classe Non para Ok Ok E costa 0 Nel turno Cioè E costa 0 Perciò Fai tante combo fighe Non so C'hai il Semana 4-6 La rana Dello shaman Che ti Rida questo spell Madonna C'hai quella delle rogue Che ti dà l'arma Potenziata Perché giochi Mille carte Perciò Boh è figo Hai tutti I colossal A me sta carta piace Non so quanto sarà Playable Pure Pala Però in quel tipo di deck lì È forte Cioè Non sembra una brutta carta È questa È l'animo di over Per cui si gioca quel mazzo Infatti È Sono l'unica carta Che si gioca quel mazzo Bella questa Mi piace 5 mana La carta in sé È molto forte 5 mana 3-4 Epica Battlecry Per ogni carta Di paladin Della tua mano Randomicamente ottiene Divine Shield Life Steel Rush Taunt Anche questo è molto forte Io sto messo male Io ci pensavo che L'effetto fosse Che se Nel deck Hai solamente carte Neutralità Cioè Hai solamente carte Di classe Fa l'effetto No? Ah ok Sì sì Invece no C'è sta carta anche in Che ne so OTK Pala Potrebbe essere playable Sì Ok ok È una cosa mia Questo è forte Questo è forte Non solo in Pure Paladin Effettivamente Cioè A questo punto No Boh Diciamo che È un mini di Ziliats Però Ziliats La cosa forte È che c'è Il magnetismo Che ti doveva rimuovere Tutti i pezzi Quella era forte Di che si riesce Quella cosa Cioè Infatti Non so se Ma più che altro Non puoi Per farla In mano In Sì che puoi Con la spell a 3 Ah sì Con quella Sì Non me la ricordo Sì ma quante volte Che è Con la spell a 3 in curva Ah Boh Non lo so Però È quella E poi è anche Più 5 Più 5 È scuro di vino Più avanti Dici Boh ci sta Non lo so A me piace A me piace Sia The Countess Che questa Poi c'è Promotion Poi c'è Promotion Umana Epica Da Una Silverhand Recruit Più 3 Più 3 Non mi piace Non penso sia playable Sto archetipo onestamente Oh per questo A me è saccata Sto la piace Ma è Unplayable Esatto Questo pala Tipo Questo pala Tu gioca Troppa 1 Troppa 1 Se fai Power perdi Tutto il tempo Del game Quindi Se avessi Quella carta Lost in the jungle Quella che ti Trova 2 È una Decente Quale La in mano Mi sa Più scarse Sì La 2 1 Eh sì Cioè Un Un mana Blessing of kings E OP Ma Non hai Non hai Modi Può giocare Questa carta Subito Quasi Cioè Cioè Come se non fosse Power Esatto È come se non fosse Effettivamente Un mana Blessing Cioè In questo Che fare Power Così non lo puoi fare Per il game Infatti Perciò Sette Mana Divine Toll Sette mana Spara 5 raggi Ai Ai nemici No Ok No Spara 5 raggi A random Minion Ai tuoi Da P2 Da P2 P2 Mentre fa Due danni A Quelli A quelli Nemici Oddio Sarai Obbligato a giocarlo Ovviamente In Pure Paladin Penso che si giocherà Però del resto Non mi sembra Insane È da jackpot Insane Sta roba nel pull Vabbè Da jackpot Sì Jackpot Comunque A ogni carta Che abbiamo visto Da 5 Più umana È straforte Per ora Anni quella del druido Che ti evoca il minion O la spell Quella è così Così Però è forte Comunque Beh Quella che ti evoca il minion O la spell Se tu scegli il minion In jackpot Che comunque Non è che giochi Infiniti minion E ti esce Carabatoa Vince il game Sullo spell E non è così Allora Che ti esce Carabatoa Però è ok Anche la spell Da 5 Ok Se la trovi Vabbè Quella che ti ripete No Secondo me Non è brutta Questa espansione Faligname Anche Ryu Secondo me Non è brutta Per nulla Comunque vedremo Bisognerà provare I vecchi Si è tornati Un pochino L'altra espansione C'erano tutti Carte Che collegavano Altre carte Altre carte Boom Non si capiva niente Quando leggevi il test Quindi Divine Toll Fatta Poi c'è Service Bell 3 mana Discovera Scherzo Vabbè Leggila Almeno 3 mana Discovera Una carta di classe Dal tuo deck E ne pesca Tutte le copie Come vi pare Il tracking Che costa 3 E ti da una copia Cioè ti pesca Due carte Invece che Sì direi bad Diciamo che è sempre Fatta apposta Così ti Tutori Qualche carta Ma quale Non capisco quale E' un po' Quello Il discorso Lo Cariel Poi pescare Cioè Più chance Di prendere Cariel Ma magari Ovviamente In Pure Pala In Pure Pala Magari da giochi Però Pure Pala No Non puoi giocare Pure Pala Con 40 carte Perché è neutrale Se n'era Non di classe Magari in Pure Pala Per giocare qualcosa Non di classe E pescarla Ma di classe Non ha proprio senso Sì I agree I agree Poi c'è il Il terreno di Paladin Che setta Minions Attack and Delph A 3 E' un 2 mana Con 3 di durabilità Mi ricorda La Keeper of Uldaman Non so se ve la ricordate Quella carta vecchia Che costava 4 mana 3-4 Che settava l'attacco E la vita di Minion A 3 E' forte per me Questo Dipende C'è Devi vedere quanto C'è Tanto allora In un aggro Non la giochi mai Stacarta Cioè Non vuoi mai Far stacarta Fa cagare E In controllo Barra Pure Sì Cioè Può starci Però non mi sembra Insana In control Così è buona E' parecchio buona Stacarta Sì Ma hai già Righteous Defense Lì Con la roba Che te lo fa diventare 1-1 Hai il doppio Equality Cioè Boh Non so Non è anche a me Comunque C'è infatti Quella Quattro mana È figa Perché tu Forse volentieri Facevi come buff No Forse in Contro il pala Il buff Boh Che fai troppo a uno Dentro questa Ci sta Mi dà vibes Da carta Che è figa Solamente perché Essendo Location Starling board È diverso Da statile Però Solamente quello Mi piace Vabbè Sì Però non è Come dire È un aspetto Che secondo me Rende forte Le location Il fatto Che stiano In board Però Non ne so Quella del mage Almeno Aveva Un effetto Forte quasi sempre Questa qui Un po' Perché alla fine Settare 3-3 Un milione Dell'opponente Quando è Che sarà forte Cioè Non boh È ok Con il drop A 5 sopra Quello che fa È un free raid Su un 3-3 Col 3-4 È ok Nessuno di quelle È ok Però sì È una carta Che dipenderà Da quando Mi ricordo Un po' la Roma Anche per i colori Sì Anche in Ciaccio Samuele Che abbiano scritto Roma è merda Infatti Quindi È ok Eh Sattor sconcorda Infatti No Alla bannare Aspettate No Romano Poi c'è Drek Tarp Unerf Dopo Ah È già nascosto Ok È nascosto Allora 4 mana 2-4 Battlecry Summon A 2 Silver Andrecruits Infuse 3 Give them Plus 2 Attack And Divine Shield Puttana Questa cosa Con l'Infuse Attiva È straforte Cazzo Effettivamente È insano Però Se il mazzo Fa cagare Che cazzo Ne so C'è Ma Infuse 3 Cioè Significa che tu Evoke 3 million E Muogliono tutte e tre Oh Non lo so Per me è schifo Per me Infuse È una Una meccanica Una meccanica Grazie Che non è Playable Che non è forte Eh Questa bisognerà vedere Infatti anche dopo Poi vedremo Le carte di Rogue Almeno questo Ci saranno In Pure La giochi sempre Quella in Pure Palace Secondo me Al di là In Pure Palace Sì Secondo me Sì Infatti In Pure Palace C'è tanta di quella monnessa Ti ricordo In Pure Palace La stessa cosa Ma comunque ci sarà Cioè ci sarà Ci sarà da provare Perché sicuro Alcune carte Che ci sembrano Uber Bad Saranno straforti Questo succede ogni volta Potassi Dubito sarà questa La carta Però Qualche carta ci sarà Buona che abbiamo giudicato Al contrario Tremana 2 4 Taunt Battlecry Discovera una carta di Paladin Mi ricorda Mi ricorda Lo stone il defender A caso Perché c'è Un taunt da 3 Che discovera A caso così Però la forza Dello stone il defender Era che Il fatto che Ti pigliavi Tamsin Ogni volta Com'è che si chiamava Non Tamsin Era Tarim Tarim Sì Umana 2-1 Detrattol Ti mette Due Silver and Recruit Nella tua mano C'è la quest Di Paladin No Cos'è che fa La quest di Paladin Devi giocare carte A umana E cosa fa Una volta Troppa uno Diversi A umana E alla fine Ti dice Che le tue Silver and Hanno Più 2 Più 2 Sì Cioè Diciamo che ti dice Che guadagni 400 tasta Ah ok Onesto Quindi Leta Non è bullish Sulla meccanica Silver and Recruit Neanch'io Specificatamente Su quella Però mi piacciono Delle carte Per Per più Pala Cioè The Countess E lo snob Mi piacciono Un lotto Come carte 3-4 Pure la La 2-2 Che ti vede Il fondo del mazzo E ti buffa Il minion Con le sue statistiche Sta 3-4 Non è male Prenderla da quella Perché in più Pala Qua c'è ancora C'è ancora il 2-1 Che pesca un minion Dal deck E ti buffa la mano Perché questa qua La puoi anche giocare Non in pure pala Perché comunque Dice che si adatta Per ogni carta di pala Che è in mano Se in controllo paladin Con smite La giochi Cioè sta roba Sì 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 È fortissima Questa in controllo Anche Cioè Anche perché magari Contro Cioè un aggro deck Questa se è Mianche minimamente Buffata E ti vinci il gate Ok Sì 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 Ci ho pensato Alla signorina Per me snob È straforte Per il fatto che Di deck aglio Non ce ne sono Non so Eh magari ne usciranno Che ne so Può dare sì Overall voto pala Dei ragazzi Boh un secco Due e mezzo Io tre pala Dai Non mi entusiasmo Sicuro Rega Ci stiamo sbagliando Su qualche classe Secondo me Però Che poi In realtà Le classi C'è le classi Più interessanti Ci saranno adesso Perché Anche a vedere Un po' Dal theorycrafting Saranno le prossime Che andremo a vedere Adesso Le classi Che hanno guadagnato Di più a mio parere Però poi Il tempo lo dirai Il mazzo Dai lo basso Questo Sto paladin Gente prende Per me è uno Che alla fine Fa una dog shit Cioè Druido Roghi e priest Sono cinque spanne sopra Para Sì Non è Glocks Eh sì Cioè Vi ti vedo solamente Caratter for fun Ma Sì 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 Tanto giochi cari Alcuni geni Te le vince Comunque Anche se giochi Per paladin Vediamo la prossima Classe Che è Priest Ecco Qua cominciano ad esserci Carte Strong Allora Cominciando la prima Cominciando la prima Tremano uno sei After Yucasta Spella una friendly minion Gli setta Il suo attacco E la E la sua vita Al più alto dei due Quindi Cosa significa Praticamente Che Se tu dai Un più due salute A un uno A un uno A un uno sei Per dire Diventa otto otto Giusto Sembra buona Sta carta Cioè in qualche modo Secondo me Sarà forte Questa carta Io voglio Vado dritto Cinque stelle Su Cioè Quindici Su cinque Cioè Questa carta Ma più che altro Non ho un mazzo adesso Però Come no Scusami Cioè qualsiasi deck Che ha Devour Plague Quella lì Che Che costa uno Questa carta qui Ma tipo che ne so Che giochi In Nagaprist Hai Wig E quella Cioè diventa Uno Quattro mana Ottotto Sì Diventa Oppure diventa Uno tre mana Dieci dieci Se fai devour Cioè Non lo so Cioè mi sembra Potenzialmente Pvp Sì Per me Stava molto forte Cinque su cinque Fortissima Stata Cinque su cinque Facile Pelagos Poi c'è Tre mana Quattro tre Dopo Che giochi Una carta copiata Dal Dal tuo avversario Rubile originale Un'illusia bad Molto più bad Sì C'è l'idea è quella Ma anche perché queste carte Che copiano Quelle dell'opponente Non ho ben capito Quali siano Perciò Ne hai tantissime Ne sono un paio Che brutta C'è il draconid operative Più un paio Da ste espansioni Questa Questa è quella Che non vorresti Sono magari Vabbè magari Più il laser Cioè magari C'erano nuove carte Diventerà forte Però adesso Se sta meccanica Un po' morente Non ha molto supporto Non mi sembra Granché Agri Mentre C'è Boone of the Ashen The Ascended Quattro mana epica Da un tuo minion Più di vita Sammon on Kiryan With stats and taunt Ok quindi Da un tuo minion Più di vita E poi Sammon on minion Che ha Le stesse stats Del minion A cui hai dato Più di due salute E ha anche taunt Qua lascia commentare Leta che vi è esperto Di questa tipologia Di deck Boone of the Ashen Sì Ma mancano le carte Non so Cioè È figa Ma dove Non vedo Non lo so Cioè non Da quando sei Tech Che ne so Merda sette Che è vero Quella che ti scontava Le carte spell in mano Sì la La 2.5 Palm reading Ah no Sì sì Palma reading Nasnami Cioè non vedo Non lo so Per me è schifo Non vedo Ah sì sì Perché dicono Nel board priest Perché nel board priest Cosa farebbe Questo in board priest Pensa che Maga un'altra Board Per loro Buono Vabbè Io avrei detto Schifo Al volo Però c'è la letta Cioè priest Quando c'è letta Vai 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 Schifo 2 mana 2-3 Battlecry Riduce il costo Delle carte copiate Dal tuo opponent Di 2 Non ci piace La meccanica Allora Questa è uguale A quella di prima Esatto Non c'è molto Da commentare Su questa 5 mana Clean the Shen Dispacca tutti i minion Con 3 o meno D'attacco Con infusione 3 6 o meno Carta da control Probabilmente Dite che si potrebbe Giocare in caso In Dei like Ries Waker Mace Sotto questa carta Pollice all'insù Di swag Questa carta qua Si potrebbe giocare In quest priest Da 40 carte Forse Secondo me è molto forte Stacca In fuse 3 È vero Però Molte volte In fuse 3 Non è molto Cioè in quest priest Lo fai Perché tanto Inizio Cioè Già 6 e tanto Se hai d'attacco Tipo a rogue Gli togli Qualunque minion Gioca Sì È fortissimo Dico rogue Per Per Questa qua È cancerogena Sfac Cazzo Pensandoci Madonna Questa sarà Sarà L'incubo Ti ho No Ti ho Conta che quest priest Ora fa Fa un po' Cagare Perché In mid game A parte Xirella Non hai removal Cioè Prima di Quella roba Ottumana Whirlpool Cioè Ci metti anche Due di questi E la storia cambia Sì Decisamente No questo Io ho l'idea Che sarà tipo L'incubo Di quando Becchio Warrior Speri che non Abbiamo Brawl Questa sarà Più o meno Lo stesso Feeling Non lo so Poi c'è Tremana Quindi molto forte Questa qua Da 5 Ora passiamo Al terreno Di priest Tremana Tre durabilità Da un minion P2 P1 E pesca Una carta Straforte Anche questo Secondo me Perché Da P2 P1 Che magari Ti aiuta Per qualche trade E soprattutto Pesca Che Scomba anche Con la spell A1 Lì sotto Per Dei Per chi Giocava A tempo fa Un po' Di vibes Un po' Di ricordi Quando facevi Tipo P2 Attacco BGH Su un pezzo All'avversario Perché quella Da P2 P1 La spell Sotto Dice che Fa danno Pari All'attacco Quindi Gli baffi L'attacco Questa lettura Penso che In pochi L'avrebbero fatta Quindi Questa carta La trovi Fatti I nemici E' fatta I nemici Può targettare Qualunque minion Quella carta Allora In chat ci sono Due o tre domande Allora Allora Intanto c'è Andrea J Che dice Romano Figlio di una vacca Malata Allora C'è Vectoriano Che chiede Ma conta Come spell Il luogo Punto interrogativo Se giochi In shadow priest Funziona Punto interrogativo Che significa No Non è spell Cioè Non è spell E' un terreno Sì Terreno No Per favore Sbanate Andrea J Dai Satter Per favore Sia giocabile In shadow Molto forte Mi piace anche Il terreno Per ora Di priest Veramente Tanta roba La prima Non lo giochi O credo Che sale Letteralmente In ogni priest Secondo me Questo è un 5 su 5 Questo terreno E' forte Forse Sì Alla fine Pesca Che te ne fotte Secondo me Questo è un 5 su 5 Facile Un po' è lentino Però Fa un turno Sì Uno No Non so Un po' lentino Comunque Peschi Dere carta A tremane E' più fatti Ma Cioè Secondo me Non so Io do Deve dei 4 su 5 Però eccolo Cioè magari Devo giocare Beh comunque Grande carta Grande carta Io 3 e mezzo Io neanche Un pochino meno pure Non lo so Boh Non è C'è una carta Alla fine 3 Alla fine dopo Quanti turni Dopo 5 No Un Tu Se carame Di 5 su 5 Priest Ne ha 2 E non è quella Cioè Cioè Questa qui Dopo 1 Eh Già Proprio lui L'1-3 Fantastico Sì 1-3 Che schifo Sti cosi Allora 1-3 Battlecry Discovera Un minion Leggendario Se il tuo Se il tuo avversario Indovina la tua scelta Ne ottengono una copia E uguale a quella di Mage Praticamente Un man 1-3 Che funzionava Con la spell Ma questa qua È fatta minion Diciamo No Comunque Sono scoppiate Tutte le cam Sì Ho visto Infatti Stavo aspettando Un minuto Vedere se tornavano Altrimenti Fixiamo Cioè Esco E rientro Non è un problema Ci metto 30 secondi E Ok Sono saltato Un secondo Che esco E rientro Nella call Allora Sì Ok Mi Un secondo Che era saltato Effettivamente Tutto Ok Ci siamo Ci siamo Il discover Che fa l'avversario Lo stesso Che fai tu E lo fai Nel tuo turno Cioè Nel senso Io Gioco L'1-3 Passo Appena ti inizia Il turno Tu fai il discover Cioè Vedi le stesse Tre carte Che ho visto io E ne scegli una Come l'ho fatto io E se la indovini L'ho tieni in mano Ma per questo Ho fatto Cioè C'è meglio È figo Quindi se la giochi Nello stesso turno E infatti Cioè Eh sì Infatti Questo È proprio per quello Credo Cioè Credo l'abbiamo Fatta apposta Non so Eh sì Lo skip Tipo di Cartadena Molto forte Ma Sì Sì Dai 1-3 Next Ecco Next Sator Se riesci un attimo Dopo a leggerla chat C'è Jakey Ti ha fatto una domanda Mi puoi rispondere Mannatelo Mannatelo Eh Allora Quattro mana Partner in crime Bellissimo il nome della carta Mi piace anche l'artwork Dico la verità Quattro mana 2-5 Battle Cry Sammon Una coppia di questo minion Alla fine del tuo turno Quindi se Tu giochi questo 5 Sì Sì Se questo lo baffi Praticamente Ah no Sì sì Se questo lo baffi Evo che è una coppia baffata È fortissima Cioè Quattro mana Ma anche che non Ma anche che non lo baffi Fa comunque Doppi 2-5 4 Fortissima 5 su 5 again Preso veramente tante carte forti Anno sta 5 Lo sei Mi piace Però C'è quel dubbio Dove Che la giocavesti Ma in Beh questa letteralmente Non è in mazzo Ma in colpa Con quella carta Che è come te il boble Anche in questo Vista Ma Secondo me In Quest Priest Specie se giochi La carta 5 Con infusione Perché comunque Questo ti mette In Quest Priest Non hai Cioè Troppa 4 Ora Si giocava Xirella Xirella No Cani non la giocavano Cioè volendo Alla fine giochi C'è quello che vuoi Però questa è molto più forte Questa fa due Okani E se hai il terreno a terra Fai 2,4,6 Sì ma Panic c'è in effetto Merda è vero Comunque c'è Fai terreno Questa è illegale Io preferisco Doppio 4,6 A un,2,6 Vabbè Perché No ma Perché Perché te Farò sempre In un deck Con 40 carte Fai sempre Location In play Ma vabbè Quindi 3 però Fai basso completo Non neanche puoi usare la location T3 Vabbè Che è ok Vabbè Me raccollo Per me è fortissima Di quest Sia magari ti vai a Discoverare Delle carte Che ti fillano Gli altri step Che Cioè che non hai Che non hai in mano Magari L'unica cosa è che la maggior parte Dei carte costano poco Di solito Nei mazzi Carte costose Secondo è la cosa forte Che fai Cioè fai proprio Discover Cioè non è che ti dà Due carte a casa Te le scegli tu Che è diverso Cioè penso Che ti inculano Crabatoa in Rogue Cioè No Discover è ok Sì è vero Insano Sì però Cioè non so Crabatoa è uno No no Chiaro Chiaro Non so Mi da vibes Da carta for fun Cioè non Cioè non so C'è questo deck Un po' Non lo so Non so se la giocarei In Sì magari non ne hai bisogno Cioè magari Non so Io ipotetizzo La camera di Sotters E Disneyland Perché vedono tutti i pupazzi Madonna Madonna Poi c'è l'ultima L'ultima calda Bollente carta Di Avengers It burns Fa danni Fa danni a Minion Equivalenti al suo attacco Oli Carta da Quest Spreeze direi Forse Cosa è Cosa è Cosa è No anche Controll Spreeze Sì infatti Cioè qui Magari In Bolle Prist Non giochi Smite E giochi questo Eh esatto Molto che forse Cioè di base Che ne so Su 10 scenari Secondo me Questo qua sarà meglio Che ne so 6 volte Sì Su 10 Perciò Sì Sì Dipende Che ne so Se ti fanno Watchpost Voi Smite Se ti fanno Che ne so Cioè questa qua Sì magari Più forte Nel later Si giocano Diciamo Eh sì Molto buono Allora Vorrei un pull Per la chat Riguardo al voto Di Prist Poi ora diamo il voto Noi A me Prist È piaciuto un botto Gli do 4 e mezzo La classica Il voto più alto Finora Ha un sacco di carte forti Le uniche che non mi piacciono Sono quelle con la meccanica Del Tra virgolette Fottere carte Oppo Però Pretty good Prist 4 e mezzo Per me A me non mi piace Che gli do 3 anche a Prist Ah c'è la way 3 e mezzo Per la way dai Io ho 4 2 e mezzo C'è più che altro perché È figo Ma non c'è meglio Non ha Meccaniche nuove C'è 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 Forza Lazio C'è C'è C'è